Fisico leggero con la prima Fisico leggero con la prima Fisico leggero con la prima Ok? Ok? It doesn't feel light I feel light I feel still light I feel light You feel that is your problem La pestane è stessa! Non c'è la sposta? C'è la sua risposta? Non c'è la sua risposta! E' questa cosa che ha fatto? C'è la sua risposta? Non c'è la sua risposta! No. Ti piace la risposta? No. La mia risposta è di sfruttare le risposta. Come farò? Come le prossime queste tarzazioni, praticare o pensare. di tutte queste direzioni. E' quella direzione. Come fare le direzioni? Non solo le direzioni. Non significa... Non è che la direzione. Le direzioni. Le direzioni. Le direzioni. Le direzioni. Come quando la piena è ciugata, la sua sua mano è pesante, come una montagna. Ma è fisica. Non ho vinconti. Non è che perché c'è la dentro di un palazzo. Si deve distribuire le indicazioni, posso fare. Certo... Touch me, can't touch. Vi fico, a few. I like that. Mi leggero. 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 e il piede per la tua man è heavier il piede per la tua il piede per la tua non si ma 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 non è ma è possibile tu puoi fare questo è la mia questa è la sua specialità no, 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 no me, I know you I'm light but heavy leggera e pesante my mind I'm not physical I'm not this heavy I'm heavy I'm heavy I'm heavy my mind so this still light la pesantezza viene nella mente quindi il fisico rimane leggero grazie 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 Grazie.